Tutti pronti? Già in ripresa? Si siamo! Siamo tutti prontissimi! Siamo tutti prontissimi! E anche il nostro Sergio, futuro pensionato! Futuro pensionato! Futuro pensionato! Futuro pensionato! Vabbè, anche quello c'è! E poi abbiamo Franco! Cosa è mia? Puoi dire dei grafici più grandi o no? Ecco qua abbiamo il nostro Franco! Gruppo Brixen! Gruppo Brixen! Gruppo Brestanone! Gruppo Brixen che già fuma! Lui praticamente ha una boccata d'ossigeno! Lui già se la sta facendo! Ci vuole un po'! Ci vuole! E' il suo simbolo! E' il suo simbolo! Ehi! 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 guarda che grande Sergio guardalo, guardalo, i fratelli sede la storia l'amore john grazie a tutti 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 grazie a tutti